L'immigrazione illegale di massa danneggia tutti. Sono le parole con cui il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, apre la Conferenza di Roma su sviluppo e migrazioni, presenti leader di quasi tutti i paesi della sponda sud del Mediterraneo, fino al Medio Oriente, al Golfo e alle istituzioni europee e a quelle finanziarie e internazionali. A tutti la Premier italiana dice serve un impegno comune e più collaborazione per contrastare la rete dei trafficanti. La ricetta che Meloni propone è un dialogo che sia paritario tra Europa e Mediterraneo allargato e non predatorio con gli stati di provenienza dei migranti. Il ruolo dell'Italia, spiega ancora, non è astratto, senza collaborazione o non si vada lontani. L'evento organizzato dal nostro Governo è solo il primo passo del Piano Mattei che l'Italia illustrerà a novembre in occasione della conferenza Italia-Africa. Giorgia Meloni poi ringrazia la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per il lavoro incessante, ribadisce la necessità di reprimere i trafficanti e distruggere il loro cinico modello di business. Von der Leyen spiega che è necessario unire le forze. L'apertura di nuovi percorsi legali, spiega, può creare un'alternativa reale e sicura ai pericolosi viaggi in mare. Nel corso dei lavori è emersa chiara la necessità di promuovere una più stretta concertazione tra i paesi di transito. A questo proposito si indica come modello valido per altri accordi, l'intesa sottoscritta qualche giorno fa tra l'Unione europea e la Tunisia con il patrocinio dell'Italia. Proprio il Presidente tunisino Kais Saïed, criticato per la gestione dei migranti nel suo paese, interviene alla conferenza attaccando le tante organizzazioni che nello statuto parlano del loro ruolo umanitario, ma purtroppo non hanno fatto nulla. Saïed ricorda anche che le migrazioni di oggi dal sud del mondo sono diretta conseguenza del colonialismo del passato. Giorgia Meloni durante i lavori ringrazia nuovamente il Presidente egiziano per la grazia Patrick Zaki e infine ricorda che l'Italia è un ponte tra l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente e che per questo si fa carico di un impegno che chiama processo di Roma, che porti a misure concrete per affrontare le cause profonde dei flussi irregolari e per sconfiggere l'attività criminale dei trafficanti di esseri umani. E annuncia un fondo di sviluppo a beneficio dei paesi del Mediterraneo e sul Sahariani per interventi strategici e strutturali.